Ciò che abbiamo imparato a conoscere con la brutta forma di distanziamento sociale, ma che in realtà, come più volte detto dall'Accademia della Crusca, bisognerebbe chiamare nel giusto modo, ovvero distanziamento fisico, lo dovremmo perpetrare, così come le mascherine, anche nella cosiddetta fase 2, a meno che non vogliamo ritrovarci in situazioni ancora peggiori rispetto a quelle attuali. Durante i primi giorni dall'emanazione delle disposizioni del governo che incidevano così pesantemente sulle nostre libertà individuali, ciò che ha trovato maggiori resistenze, l'impossibilità di praticare corsa all'aperto uscita in bicicletta con fegato amaro di runner cicloamatori. E come per altre situazioni sono i social che ci hanno rifilato da parte di questi infaticabili atleti che stavano preparando la maratona della vita o la gran fondo con prosciutto finale, le più astruse scuse. Io corro da solo, vado in campagna, in mezzo a un bosco, non incontro nessuno, parto alle 3 del mattino e ritorno all'alba e potremmo andare avanti così per ore. Ma un motivo è anche scientifico se questo stop all'attività fisica è stato dato anche in solitaria, c'è e lo dimostra la scienza. Innanzitutto perché nessuno di noi si può dire sano esistono gli asintomatici anche tra gli atleti o i fisicamente preparati. In più il motivo è stato anche dato dagli esperti con uno studio scientifico pubblicato recentemente dai ricercatori dell'Università di Eindhoven in Olanda e dal Dipartimento di Tecnologia del Belgio sulla diffusione del virus attraverso le goccioline di saliva in base alla velocità della persona. Da fermi le goccioline di saliva droplet possono arrivare fino a un metro e mezzo, ma se uno cammina normalmente, alla velocità più o meno di 4 chilometri all'ora, la distanza minima di sicurezza da tenere è di almeno 5 metri. Per chi corre invece si arriva alla distanza di 10 metri. Per chi corre e quindi va a una velocità di almeno 14 chilometri all'ora, si arriva ad una distanza di 10 metri. Peggio ancora se si va in bicicletta, dove la distanza consigliata, dicono i ricercatori, è di almeno 20 metri. Questo studio sarà molto utile quando potremo uscire di casa, non solo per chi corre o va in bicicletta, ma soprattutto per chi cammina per strada e va a fare la spesa. Quindi manteniamo le distanze giuste e indossiamo le mascherine.